Ritorna per l'anno 2015 il campo antimafia promosso dalla cooperativa sociale 101 onlus che la scorsa estate ha visto la partecipazione di oltre 100 ragazzi provenienti da tutta Italia impegnati in un lavoro volontario di riqualifica di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata attraverso attività della scuola di formazione tematica proposta dal campo e gli incontri con esperti di diversi settori antimafia sociale beni confiscati cooperazione ed impresa sociale agricoltura a queste quattro aree tematiche della scuola di formazione del campo 2014 si aggiungono per la nuova edizione due ambiti ambiente cultura della diversità l'intenzione ci racconta alessandra dalla cooperativa sociale 101 onlus e riproporre per l'anno 2015 il campo antimafia intitolandolo ad angelo vassallo in virtù del suo sacrificio del suo impegno per la comunità e per il simbolo che egli rappresenta il campo si svolgerà nei mesi di luglio e agosto 2015 nel territorio della regione lazio in particolare nei comuni del sud pontino con base logistica gaeta ed è prevista una partecipazione di circa 300 iscritti per 4 6 turni complessivi di campo per l'appare Grazie.